Lo scudo delle buone letture di padre Stefano Maria Manelli Padre Pio parla dell'anima giovanile e la presenta nel suo travaglio più serio e pericoloso, quello dei pensieri. Ogni anima giovanile, si sa, è un potenziale di pensieri aperti al presente e al futuro. Che cosa non è capace di pensare, infatti, un ragazzo e un giovane? Pensieri di sogni dorati, pensieri di avventure senza limiti, pensieri di un futuro brillante o grandioso, pensieri di vita scioperata o dissoluta. Che cosa non pensava il giovane Francesco d'Assisi quando era il re della gioventù dorata d'Assisi, quando vestiva panni raffinati, amava le lunghe cavalcate, organizzava feste e aspirava a diventare cavaliere e principe di questo mondo? Che cosa apportò poi Francesco d'Assisi sulla strada di quella vita così diversa da trasformarlo in San Francesco? Ciò che scosse San Francesco fu il libro sublime, il libro divino del Vangelo di Cristo da lui ascoltato a Santa Maria degli Angeli e poi letto, meditato, approfondito e messo in pratica. Che cosa non pensava il giovane Ignazio di Loyola, focoso e ardito combattente, acceso di passioni e voglioso di avventure mondane in ogni campo e di ogni genere? Ferito e semi-paralizzato a Manresa, voleva leggere libri di avventure mondane durante le lunghe ore di immobilità a cui fu costretto per più giorni, ma non trovò altro libro da leggere che un florilegio di vite di santi. Era davvero ben altro che egli avrebbe voluto leggere, ma non c'era altro e dovette rassegnarsi a leggere solo quel florilegio. Quale fu il risultato? Una lotta interiore si scatenò in lui, tra le voglie delle passioni carnali e mondane che lo bruciavano e gli esempi di virtù sublimi praticate da santi che lo attiravano. La riflessione sugli esempi di eroismo dei santi lo portò a interrogarsi animosamente «E se facessi anch'io come Sant'Agostino? E se seguissi Gesù come San Bernardo? E se imitassi San Francesco d'Assisi?» Per grazia di Dio questo libro delle vite dei santi fece maturare in lui propositi ardenti che la vinsero sulle voglie miserande della natura. E così, Ignazio di Loyola divenne il santo, fondatore della grande famiglia dei Gesuiti, la compagnia di Gesù. Questi due esempi, tra mille e mille, servono di conferma a quel che insegna Padre Pio sui libri devoti, affermando giustamente che essi sono un forte scudo di difesa dagli assalti dei pensieri malvagi, dai quali è combattuta l'anima giovanile. Se i giovani, infatti, leggessero i libri devoti, anziché tanti libri di rovina, se leggessero le vite dei santi, quanti buoni pensieri e aspirazioni avrebbero, quante illuminazioni sulle virtù avrebbero per vincere le passioni e le inclinazioni al male.